Cari amici di Obiettivo Salute, cari amici di Rossini TV, siamo anche oggi a Fisioradi nel nostro programma, per il nostro programma, per le nostre pillole di salute. Oggi incontreremo il dottor Giovanni D'Agostino, un giovane medico chirurgo, specialista in ottorino laringoiatria, che ci parlerà di quella che è una delle patologie più diffuse, soprattutto nella stagione autunnale e invernale, cioè l'ostruzione nasale. Busseremo alla sua porta e poi entreremo da lui per l'intervista. Dottore, siamo arrivati. Buongiorno, eccoci. Il dottor Giovanni D'Agostino è davanti a noi. Buongiorno, buongiorno. Specialista in ottorino laringoiatria, una pratica medica molto importante, molto diffusa, perché poi le malattie dell'apparato proprio, naso, orecchio, mal di gola, sono veramente all'ordine del giorno. Noi, per esempio, oggi ci vorremmo occupare di ostruzione nasale. Ostruzione nasale, che è una patologia banale, fra virgolette, ma che veramente ci tocca a tutti. Sì, è uno dei motivi più frequenti di accesso alle strutture per una visita a ottorino laringoiatrica. Può essere, come ha detto lei, giustamente banale, può nascondere qualcosa di un po' più grave. Le patologie più frequenti sono legate a problematiche anatomiche, quindi di deviazione del setto, di ipertrofia di turbinati, di poliposi naso-sinusale, patologia infiammatoria, infettiva, che può essere un'infiammatoria allergica o non allergica, oppure a volte anche tumorale, più raramente, però ci sono anche delle forme tumorali del naso. Quindi bisogna comunque stare attenti ai segnali che ci dà il nostro corpo, che ci dà il nostro apparato per subito accendere le lampadine e rivolgersi allo specialista. Sì, decisamente, anche perché poi in realtà la possibilità di diagnosi è anche abbastanza semplice, perché con una visita a ottorino di base e un'endoscopia delle vie aerodigestive superiori, che è ormai pratica comune in tutti gli ambulatori di ottorino, si può fare diagnosi. Poi a questo primo passo si deve aggiungere una parte diagnostica più importante, anche radiologica, quindi in forma di TAC o risonanza magnetica, secondo il tipo di patologia che si voglia andare a studiare. Si può andare un pochettino più a fondo con la rinomanometria che valuta i flussi aerei nasali di base e dopo stimolazione o provocazione. La citologia nasale, che è una branca relativamente nuova, si fa un'analisi citologica, quindi nel microscopio delle cellule presenti nella mucosa del naso e si inquadrano tutte quelle forme di rinite non allergica, ma cosiddette riniti cellulari. Si può associare una diagnostica un po' più approfondita, di solito prima di un intervento chirurgico, che è la sleep endoscopy in caso di russamento di apnea, un'endoscopia in sonno che vede quali sono oltre al naso i siti ostruttivi respiratori. Quindi diciamo che la parte diagnostica è un po' più completa, viene dopo la visita. Esatto, poi dopo ovviamente esistono terapie, esistono cure, si può affrontare il problema e quindi direi che è molto importante capire come. Sì, come perché ovviamente c'è tutto il lato chirurgico, setto, turbinoplastica, anestesia generale o in sedazione, per quanto riguarda la turbinoplastica solamente ovviamente la sedazione, la chirurgia endoscopica dei seni paranasali, quindi attraverso degli endoscopi operativi si va a trattare la patologia dei seni paranasali, ma ci sono anche le terapie mediche che possono essere diciamo così one shot, one kill oppure un po' croniche da portare avanti nel tempo per le patologie allergiche che devono essere verificate con delle prove allergiche, una vista anche allergologica specifica o per le forme non allergiche, comunque la terapia è legata ai cortisonici locali o sistemici, gli antistaminici, gli antileucotrienici, quindi c'è tutta una categoria di farmaci che può aiutare a risolvere e a gestire questi problemi. Ma dottore quando si parla di ostruzione nasale, di questo tipo di patologie, molto spesso si rischia di fare un po' di confusione, si mette tutto insieme con la parola sinusite, è corretto oppure no? Allora diciamo che è corretto perché le cavità nasali e le cavità sinusali sono intimamente correlate, nel senso che quando c'è una problematica di una delle fosse nasali in questo caso c'è sempre un minimo risentimento sinusitico, poi non sempre bisogna andare ad agire anche sui seni paranasali, ma quando c'è un'ostruzione nasale importante i seni paranasali non stanno bene, quindi in qualche modo va sempre considerata ogni rinite come rinosinusite, spesso e volentieri. Poi dipenderà nella fase diagnostica capire dove agire e quando e come, insomma. Noi per fare questa intervista ci siamo tolti le mascherine perché siamo in una situazione nella quale c'è la distanza, in cui possiamo parlare guardandoci negli occhi e nel viso interamente, però effettivamente l'utilizzo della mascherina in questi ultimi 18-20 mesi ha cambiato proprio l'aspetto relativo ad alcune patologie. Sembra che l'uso della mascherina porti per esempio ad avere anche una prevenzione anche per questo tipo di patologie. Le patologie infettive, molte patologie infiammatorie del naso, anche delle orecchie, perché poi comunque attraverso le tube d'eustacchio le orecchie sono collegate alle cavità nasali e si sono viste ridurre in questi 18 mesi proprio per l'utilizzo della mascherina. Quindi si è visto anche un cambiamento dal punto di vista delle terapie farmacologiche. Ci sono alcuni farmaci che non abbiamo usato, non abbiamo prescritto perché non c'è stato bisogno. Le patologie anche banali come il classico raffreddore stagionale o l'influenza che in questo anno e mezzo praticamente non si è fatta sentire proprio per i sistemi di protezione. In alcune culture, quelle orientali, è già in uso da tanti anni e noi l'abbiamo provato a nostro malgrado anche in questi ultimi mesi, anni. Quindi al di là del Covid potrebbe comunque essere una forma di prevenzione utile in alcune situazioni. situazioni, gli aeroporti, alcune situazioni di assembramento negli aerei che sono una di quei campi un po' minati adesso. Quelle potrebbero essere delle situazioni in cui il mantenimento della mascherina potrebbe essere anche, non dico auspicabile, ma utile in futuro. Intanto noi adesso abbiamo terminato l'intervista, quindi la ringraziamo. Appena chiuderemo e spegneremo le luci ci rimetteremo la mascherina e torneremo alla nostra vita da periodo di pandemia. Grazie dottore, grazie davvero. Grazie a voi, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata.